Bizzarri, lei è qui a raccontare, spero anche per lei, la ringrazio intanto di essersi seduto prima di me e già da seduto più alto di me in piedi, però la sua storia a Gucci è una storia molto interessante e immagino anche la sua storia precedente a Bottega Veneta, lei praticamente ha visto tutto l'impero italiano, cioè dal punto di vista dei numeri anche dei due grandi marchi che fanno numeri di quel impero guidato da Pinot, ma lei è stato chiamato da Gucci perché non era tutto rose e fiori e adesso si presenta tutto abbastanza come rose e fiori e sempre di più come rose e fiori. Qual era il problema, come è stato affrontato e cosa è stato fatto? Vedete che gliela metto lì in piatta perché così adesso stanno davvero zitti tutti. Allora, qual era il problema? Avere problemi come Gucci quando l'ho preso in mano sono bei i problemi da avere, guardiamo un miliardo di euro diciamo di utile per cui c'è un problemone abbastanza interessante da avere. Quello che aveva di problema è che negli ultimi due anni di fatto aveva perso il quadro di mercato in uno scenario diciamo di crescita abbastanza forte, per cui si cresceva ma c'erano brand, Prada, Hermès, Louis Vuitton eccetera che crescevano molto di più. Perché? Si diceva un grande marchio di un grande impero però a gestione familiare, si faceva questa battuta che io non ho capito. Io non commento, no non penso sia questo stato il problema, infatti a mio avviso si è cercato di fare un posizionamento al tempio tra il 2008 e il 2013 e il 2014 troppo basato sulla storia, sull'heritage, sull'artigianalità, andando contro competitors che non erano propri di Gucci, nel senso che si andava contro Hermès mentre i valori di questo brand di Gucci erano molto più virati verso la moda, verso l'innovazione, pur mantenendo ovviamente ferma tutta la parte dell'artigianalità che è veramente per noi fortissima. Quindi sulla base di questo quando Pino mi chiese di diventare l'amministratore delegato di Gucci... Come gliel'ha chiesto? Diamo una solennità a questo passaggio. A tempo io ero capo della parte luxury diciamo di Caring, escluso Gucci, quindi io ero capo di tutti i brand di Caring, quindi Saloram, Bottega, Stella McCartney, McQueen, Brioni, tutti questi. Ho preso il ruolo da otto mesi e stavo benissimo perché avevo la possibilità di parlare con i CEO, con i dettori creativi, facevo quello che volevo di fatto e mi chiede di fare Gucci che non andava proprio benissimo per i motivi che le dicevo, soprattutto con gli andamenti dei negozi comp e negativi e se le devo dire dopo aver fatto Stella McCartney, Bottega, questo ruolo, ritornare a ricominciare a fare un altro brand di queste dimensioni perché 4 miliardi di euro di fatturato, 11 mila dipendenti, insomma non era esattamente il mio sogno. Però era rimanere dove ero, stavo benissimo. Il punto è che comunque insomma se Pino ti chiede o ti dice di andare, le scelte non sono molte. Si era dimenticato il punto interrogativo alla fine della frase. Esattamente, esattamente. Quindi ovviamente anche questi sono bei problemi da avere, adesso non è che voglio far finta che non mi piace quello che faccio, anzi evidentemente poi appena sono arrivato da Gucci mi sono innamorato tantissimo di questo brand che diciamo tra quelli che ho gestito è quello che mi assomiglia come caratteristiche. E da lì ho cominciato diciamo innanzitutto a cercare di capire cosa volevamo farne. L'idea era quella di riportarlo, farlo diventare il brand più desiderato all'interno del fashion system, la sfilata più importante delle sfilate milanesi e per fare questo dobbiamo fare un cambiamento piuttosto radicale rispetto al passato perché fino ad allora diciamo non era proprio così. Allora la pars destruens l'abbiamo già capita, tra necessità di dire a qualcuno di spostarsi e individuazioni, il discorso heritage e tutto quanto che non funzionava, si capisce cosa è stato tolto e chi è stato tolto. Chi si mette per fare cosa, no? È nata prima l'idea di una strategia per aggredire il mercato, per riconquistare il quadro eccetera o è nata prima la scelta delle persone e poi insieme si è giudicato? Prima è nata la scelta della strategia, cioè perché le persone vengono scelte in funzione di quello che vuoi fare. Io volevo andare in una direzione molto chiara che era fare una disruption molto forte con il passato, quindi avevo bisogno di persone che a parte il talento creativo avessero la voglia di prendersi dei rischi abbastanza importanti, così come li stavo prendendo io e di fatto anche la scelta poi del direttore creativo che poi ne parliamo perché anche questo forse è abbastanza interessante, nasce da questo ed è stato un particolare momento che probabilmente non si poteva ripetere due anni prima o due anni dopo. Attenzione che adesso un colpo di scena. Ricominciamo. La verità è che il microfono si mette a metà della giacca ed è una distanza normale rispetto alla bocca, nel suo caso sono quei 90 centimetri. No perché ridete, è una spiegazione tecnica, è vero, è inutile fare così. No pensavano che c'era ancora il vecchio amministratore. Allora ricominciamo da capo, no no si è sentito, abbastanza si è sentito, sì. Allora che cosa, eh bravo, ribelliamoci. Cominciamo. Lo uso. No lo voglio, no lo voglio. Dalle file posteriore poi ci sono persone, ci sono i rappresentanti della linea fashion della Maiko e dell'Amplifon che chiedono. Allora, io so alcune cose, un po' di smaltimento forte del magazzino per quella parte che lei non voleva più vedere, di Gucci. Diciamo che era meglio non far vedere più tanto, eh, la diciamo così, termini poco diplomatici. No, nel senso che nel momento in cui fai questa decisione di cambiare, diciamo, l'estetica di un brand importante come Gucci, con 500 negozi, con, diciamo, di valori di magazzino piuttosto impressionanti, non è neanche una scelta. Se vuoi fare in modo di investire, diciamo, tutta la cassa in nuovi negozi, nuovi prodotti, assumere nuove persone, eccetera, non è che tante, tante scelte. Il primo quarter del 2015, sono arrivato da Gucci il primo gennaio del 2015, Gucci ha fatto meno 8, meno 9, cioè meno 8, meno 9, per le dimensioni di Gucci è un'azienda, quindi noi dovevamo proteggere il 2015 che era l'anno del cambiamento. Di fatto siamo partiti con la sfilata nuova a gennaio del 2015 e fino a settembre, ottobre, di fatto parlavamo, parlavamo, cambiamento di Gucci, cambiamento di Gucci, ma non c'era un singolo prodotto nuovo nei negozi. C'era un pochino di apprensione? Beh, un pelo. Che poi un pelo ho detto da lei che... No, mi scusi, è irriverente. No, però invece io so che lei credeva. Allora, andiamo a quella scelta. La scelta del direttore creativo è fondamentale, se uno vuole fare, vuole riprendere spazio, peso, immagine, ruolo sui mercati, deve scegliere il prodotto giusto e l'ideatore giusto. Il direttore creativo nell'azienda della moda è assolutamente decisivo e poi il modo in cui interagisci con lui è ancora più importante, nel senso che le aziende che vanno male da sempre, se il brand è forte, hanno dei problemi fra la gestione dei due, perché le competenze fra uno e l'altro sono totalmente diverse e il rispetto della competenza del lato diventa chiave. Tanto più tu o l'altro ha un ego di un certo tipo, tanto peggio si lavora. Per cui nella scelta, diciamo, del direttore creativo, quello che volevo cercare di fare era anche trovare, a parte il talento, che poi nel caso di Alessandro Michele la definizione del talento era difficile di individuare, nel senso che c'era una persona che era da 12 anni da Gucci, quindi aveva vissuto tutto il periodo, fra virgolette, incriminato, quindi non era esattamente l'uomo dei sogni nella ricerca del direttore creativo inizialmente, non erano gli steri candidati, Alessandro. Ma quello che volevo cercare di fare era, se dicevo, il talento si fa fatica a individuare quando una persona fa come designer solo le borse, quindi è stato veramente un aspetto, diciamo, di emozione. E come ha fatto? Ha fatto il casting? Ha fatto X Factor? No, beh, si fa esattamente così, nel senso che prima di partire abbiamo messo insieme un gruppo di lavoro esterni, interni, eccetera, dove abbiamo identificato tutta una lista di potenziali candidati, fra i potenziali candidati c'erano anche quelli che mi inviavano mail praticamente ogni giorno perché vogliono lavorare da Gucci, ma ci sta evidentemente, tutti nomi molto importanti, anche perché come brand evidentemente Gucci è un brand importante nel panorama della moda, di questi, di quello che ho visto non c'era nessuno che mi ha fatto cliccare o scattare qualcosa. Poi casualmente ho chiesto al mio direttore di sostenere umane di darmi i nomi delle persone che avrebbero riportato a me come capo di Gucci, tra questi mi ha suggerito di vedere questo ragazzo che faceva il disegnatore delle borse, ed è cliccato qualcosa, l'ho chiamato da Parigi, di fatto era per tranquillizzare tutti che non li avrei licenziati, perché dopo il cambiamento del CEO di elettorio creativo nello stesso momento evidentemente nell'azienda c'era qualche shaking, è un esempio evidente, e quindi l'ho chiamato per dire stati tranquilli, cominciamo a lavorare insieme, questo è il mio obiettivo, e mi è piaciuto telefonicamente, il giorno dopo casualmente dovevo andare a Roma, e mi ha invitato a prendere un caffè a casa sua, e si è presentato con le lofe e col pelo, quelle che poi ha messo in sfilata, e ha detto questo è bello matto, e già mi era piaciuto. In effetti poi conoscerlo all'interno del suo appartamento mi ha aiutato tanto, perché dava veramente l'idea del tipo di estetica che Alessandro credeva, e Alessandro è Gucci, nel senso ha visto tanto tempo in Gucci, ha assimilato tanto tempo i valori di Gucci, che quello che si vede oggi nei negozi di fatto è una trasposizione di quello che piace a lui, e che questo per me è una grandissima forza, perché non cerca di inventare niente, non cerca di trovare qualcosa di particolarmente nuovo da voler vendere a tutti i costi, è lui. Quindi abbiamo cominciato a chiacchierare, gli ho raccontato cosa volevo fare dal punto di vista di strategia di posizionamento, di business, tutto quanto, chiaramente da un punto di vista strategico, perché io non sono un direttore creativo, non lo sarò mai, me ne guardo bene, e quindi dovevo cercare di capire da lui se era in linea con questo tipo di posizionamento. Abbiamo cominciato a parlare, è stata una conversazione meravigliosa, un caffè lungo, quattro ore, un caffè lungo lungo, e poi sono uscito ed era tipo sotto Natale, io sono andato in vacanza e l'ho chiamato, gli ho detto guarda, forse varebbe la pena che cominciassimo a pensare di buttare in un tentativo di strategia di Gucci, se te la senti di farlo, e lui mi ha detto sì, me la sento di farlo, quindi abbiamo cominciato a scambiare, perché la definizione moda per lei può essere diversa da quella mia, le immagini che associa lei alla moda di Gucci potrebbero essere diverse dalla mia, quindi dovevo cercare di capire se la conversazione era solo una conversazione da bar o da caffè o era veramente una conversazione di business. Abbiamo cominciato a scambiarci quelle due settimane, definizioni, parole, immagini, delle comunicazioni che lui avrebbe voluto fare, tipo di prodotto, come utilizzare il logo, come non utilizzare il logo, alla fine di queste due settimane abbiamo fatto un documento, che è ancora oggi un'azienda, che si chiama Invisioning Gucci, dove ci sono tutte le basi di riferimento anche per la decisione che prendiamo oggi. Letto questo, mi sono convinto, no anzi l'ho detto, bene, tutto bene, mi piaci tanto, te la senti fare lo show in cinque giorni? E volevo veramente che mi dissesse di sì per capire quanto rischio voleva prendere questo ragazzo, perché se mi diceva di no e voleva aspettare sei mesi non sarebbe stata la persona giusta. Lui, che pazzo completamente, mi ha detto sì, me la senti. Lei cercava un pazzo. Ma ovviamente, sì, sì, decisamente, decisamente. Quindi abbiamo buttato via tutta la collezione preparata, perché di fatto era già pronta, ho comunicato ad Alfredo Giannini che dovevamo interrompere anticipatamente il rapporto, e lui di fatto ha fatto la sfilata in cinque giorni, ovviamente grazie al fatto che era da Gucci, perché sotto di lui ci sono disegnatori, artigiani, c'è una macchina potentissima, quindi non si può pensare che solo Alessandro Michele ha fatto la collezione, perché sarebbe veramente limitativo. Come si fa a fare una sfilata in cinque giorni? Si lavora tanto, bisogna avere le idee molto chiare, perché in cinque giorni se cerchi di trovare la strada non ce la puoi fare. E quindi sulla base di questo lui aveva le idee chiarissime, sapeva esattamente cosa fare, probabilmente ha preso dal guardarobba suo, come le dicevo prima, visto che di fatto lo stava vestendo quando lo ha incontrato. Cioè ha aperto l'armadio per fare. Però comunque, a parte di scherzi, la struttura di Gucci l'ha supportato in pieno, qui ho anche delle persone che hanno lavorato con lui giorni e noti in quel periodo, ed è uscita questa prima collezione dove di fatto abbiamo spaccato un po' le opinioni, perché non è che adesso si parla di Gucci, è successo o non è successo, all'inizio c'era anche, datici indietro la fredda, e come noi, social, ci hanno massacrato per un po' di tempo. È chiaro che anche in questi casi, soprattutto in un business come il nostro, va benissimo ascoltare quello che viene detto da fuori, ma se vuoi innovare bisogna che tu prenda un po' di distanze, e anche ti chiude le orecchie, infatti social per tre mesi non è più guardata. Quando ha capito che l'avate spaccato? L'ho capito a maggio del 2015, quando abbiamo fatto la sfilata a New York. Lì mi sono reso conto della capacità che aveva questo ragazzo di legare tutto insieme, comunicazione, prodotto, abbigliamento, scarpe, re-to-wear, tutto quanto, perché comunque è una macchina complessissima, Gucci ha duemila categorie merceologiche proprio per supportare questa dimensione, e l'impatto che ha avuto da un punto di vista di prodotto, di coerenza, di risconto da parte dei giornalisti, che in quel caso è stato unanime, ecco lì mi sono veramente reso conto che avevamo svoltato. E anche lì non avevamo un prodotto nei negozi però, perché questo è importante da ricordarselo, da gennaio a ottobre del 2015, noi abbiamo parlato tanto, io ho visitato tutto il mondo per raccontare alla gente tutti i negozi, stiamo facendo percadamenti, questi sono matti, cioè vedono un negozio di un certo tipo, fanno uno show di un altro, comunicazione fuori, e dicono ma questo è dove stiamo andando. Allora come si è fatto l'allineamento dei pianeti, quanto ci è voluto? Beh, ha cominciato ad allinearsi da ottobre-novembre 2015, dove avevamo circa un 30-40% dei prodotti di Alessandro nel negozio, sul totale è fatto 100, poi man mano che sono passati i mesi, questi prodotti sono diventati sempre più importanti, oggi abbiamo praticamente il 100% di Alessandro, e si vede, e chiaramente non è solo il prodotto, abbiamo cambiato i negozi, per dare una visibilità al prodotto di un certo tipo, abbiamo cambiato le vetrine, il visual display, il packaging, e soprattutto, che per me è ancora più importante che la sfida vera che dobbiamo fare in futuro, abbiamo cominciato a cambiare la cultura, cioè la scelta di Alessandro era anche voluta, perché è un ragazzo veramente umile, estremamente intelligente, e molto rispettoso delle persone, cioè quello che volevo cercare di creare è una cultura di rispetto, non di timore all'interno dell'azienda, perché credo che in uno settore come il nostro, la creatività venga fuori, nella misura in cui tu ti senta bene, ti senta felice, e tu voglia di venire a lavorare, per fare questo dovevo avere una persona come direttore creativo che avesse veramente in sé questi requisiti e che fosse matura abbastanza, perché lui ha oltre 40 anni, quindi speravo che non cambiasse per il successo, che era il rischio che potevamo correre per un ragazzo giovane pur di talento. Allora tutti capiscono bene come si gestisce una fase di crisi, ma come si gestisce una fase in cui sai che hai il prodotto giusto e devi far diventare quel prodotto giusto la cosa che ti fa crescere. Cioè, come si sfrutta al meglio questo stato di grazia? Innanzitutto, come dicevamo prima, la parte logistica supply chain diventa assolutamente chiave. Tu devi fare in modo che il prodotto arrivi nel negozio giusto, nel momento giusto, devi cominciare ad essere sempre di più flessibile, perché il discorso, ripeto, riprendendo quello che dicevamo, con queste flutazioni di cambi, cambiamento di flussi turistici, cambiamento di consumer behavior, se tu spedisci il prodotto che viene comprato in showroom direttamente a tutti i negozi nel mondo, sei fregato. Tu devi tenerlo il più possibile centrale e muoverti in funzione di come il mercato reagisca. Per fare questo devi ovviamente lavorare tantissimi in termini di information technology, con persone che capiscono che il mondo è cambiato, devi avere una flessibilità pazzesca, perché devi reagire a velocità incredibili, prendere decisioni con un numero di informazioni molto limitate, è per questo che ho bisogno di persone che abbiano voglia di prendersi dei rischi, e quindi poi la cultura interna non può poi bastonare chi fa errori, perché altrimenti è inutile. La catena di comando finisce con lei o dovete avere un rapporto con Caring tutte queste scelte che avete fatto? Abbiamo condiviso la scelta strategica di posizionamento con François Ripino, e poi il business model di Caring è molto chiaro, c'è grandissima autonomia da parte del CEO, ci sentiamo una volta al mese, di fatto, telefonicamente, è chiaro che quando le cose vanno bene ti sentono poco, quando vanno male ti chiamano più spesso, ma questo fa parte del gioco. Cioè quella frase che lei ha già detto un paio di volte, ho sentito Parigi, quando si dice ho sentito Parigi e non la dice troppe volte, comincia a suonare un campanello dall'arco. Preoccupante, non mi ricordo quando arrivai da Bottega, che era, mi diedero il clincarico di Bottega la settimana prima di Lehman Brothers, quindi ho avuto un 3-4 mesi di meno 30, meno 40 ogni giorno in negozio, Pinot lo sentivo sempre, ogni giorno mi chiamava. Quindi insomma ovviamente da più libertà in funzione di come ti muove. È chiaro che anche la fiducia che mi ha accordato in Gucci, la possibilità di scegliere il direttore creativo, le possibilità di fare le scelte che sono state fatte in termini di organizzazione, di cambiamento di sede, di scelta di persone, nascono anche dal fatto che avendo lavorato dieci anni nel gruppo, la fiducia che mi dava e la conoscenza che aveva di me probabilmente non sarebbe stato facile per un altro arrivare in quella posizione da fuori. Quindi ha giocato tante cose in questo percorso. Senta, e se lei pensasse a... Allora, innanzitutto, la storia di successo si delinea adesso, di fatto. Adesso la dovete molto strutturare ulteriormente e consolidare. Quali sono gli obiettivi? Ci sono degli obiettivi tecnicamente numerici di cui si possono definire? Beh, non dico niente, non svelo nulla di confidenziale perché a giugno l'ho presentato agli investitori. Un'azienda oggi di 4 billion, abbiamo detto che arriviamo a 6 billion presto. Ecco, quel presto... Nel senso, la logica che cerchiamo di mettere in testa in azienda è che dobbiamo ragionare come una start-up. Cioè, se cominciamo a ragionare come un ministero, siamo fregati. Cioè, quindi, il processo decisionale deve essere veloce. Chi è lento risponde alle mail così non può far parte di Gucci. Devono prendere decisioni con poche informazioni. E sulla base di questo, se hai il prodotto giusto, fai la comunicazione giusta, le persone faranno la differenza. Quindi, noi non facciamo budget a più uno, più due, perché è ovviamente noioso. Facciamo il budget a double digit. Perché dobbiamo... E meno noioso, effettivamente. Sulla base di questo ci spingiamo. Per me, andando in avanti, in un mercato, diciamo, globale, del lusso, che si console, che diventa flat, vincerà chi innova. E quindi è una lotta su market share, su quote di mercato. A questo punto, non puoi fare quello che faceva un altro, quello che fa un altro, quello che facevi prima, devi comunque sempre rischiare. E sei obbligato a farlo. E userò una frase impropria, ma un marchio che vuole restare sul mercato, avere sempre la sua cosa, eccetera, eccetera, ha dei prodotti sempre verdi, o dei long seller, no? Per lo meno, no? Chi ragiona con questa logica, però invece deve sfornare, 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 ritirare, ritirare, ritirare. Cioè, prodotti che vivono stagioni per dare ulteriore impatto di cambiamento, immagino, no? Diciamo che bisogna dividere fra categoria di prodotto e categoria di prodotto. Se quando si parla di abbigliamento, scarpe, scarpe un po' meno, ma scarpe sicuramente più che delle borse, questa della parte moda deve essere fortissima. Per cui, di fatto, rinnovi il 100% della collezione per un brand come Gucci. Sulla parte borse, noi tiriamo davvero un 50-60% di, diciamo, di carry over, che comunque ogni stagione vengono rinnovati. Perché non è che puoi fare la borsa, la lasci lì, sperando che qualcuno se la compri. Ogni anno, ogni stagione, la devi visitare, spingere in comunicazione, nello show, quindi mantenerla viva. Quindi il carry over è non solo la size o la funzionalità, ma anche il modo in cui tu la gestisci nel corso del tempo. Era quello che voleva fare nella vita? Ma è stato casualissimo proprio. Cioè? No, io ho cominciato a lavorare in Accenture appena uscito dall'università. Poi mi chiamò questa azienda di Bologna, Mandarina Duck, che pensavo fosse americana, invece era di Bologna. e mi sono avvicinato, ma più dalla parte, diciamo, mercati, finanza, eccetera, non dalla parte retail, prodotti, eccetera. Non sono un uomo di prodotto, non sono un creativo, cosa sono, non so, però diciamo... E' uno dei double digit, no? Può bastare, no? E come è arrivato all'impero di Pinot? L'impero di Pinot mi chiamò Stella McCartney nel 2000, gennaio 2005. A me non mi ha mai chiamato, devo dire. Perché cercavano il CEO, ho cominciato lì, l'azienda era piccolissima quando sono arrivato, faceva 10 milioni di fatturato e ne perdeva altrettanti. Per cui, e appena ho firmato, il giorno dopo Robert Pollett, che era il capo di Gucci Group, annunciò che se in tre anni Stella McCartney, McQueen e Balenciaga non fossero arrivati alla Profitability, l'avrebbe chiusa. E ho detto, vabbè, bene, grazie. Un bel esordio, no pressure. Senta, poi però evidentemente è diventato una... una gallina dalle ruote. Sì, voglio dire, un talento incredibile, celebrity impressionante, carisma enorme, con caratteristiche che poi è il bello del nostro lavoro. Il direttore creativo da Stella, il direttore creativo da Bottega, il direttore da Gucci sono night and day. Cioè, quindi, la bellezza è proprio quella di avere a che fare con queste persone così diverse, rispettare tantissimo le loro competenze, cercare di capire dove sono forti e andare a coprire le debolezze. e diciamo questa cosa, il double digit, cioè il fatto di dire arriviamo a 6 billion, 6 billion, però guardi, dorme bene? Dormo benissimo. Immagino poi la lunghezza del letto, quindi... No, il problema è quando dormo nel letto, perché di solito dormi in aereo, ma a parte questo, se lei guarda alla dimensione del business, perché si parla 6 billion, sono tanti soldi, il punto vero è che noi minuto 1, gennaio 1, non ripartiamo da zero, tutte le volte, cioè nessuno assicura che fai 4 billion più 10%, quindi a quel punto ragioni in modo diverso, dice bene, se il mercato del lusso è 215, 220 billion e io ne faccio 4, faccio meno del 2% di market share, allora, far 2% o 3%, ragionando in questo modo si ragiona in modo molto diverso, guardi le produttive del metro quadro che abbiamo noi rispetto ai competitors, il conto lo fai veloce, questo però è la conseguenza, come dicevamo, il numero deriva da scelte che fai prima, se tu fai le strategie sulla base dei numeri non vai da nessuna parte. E se guarda indietro Bottega Veneta, ci sono problemi simili, non sono fatti i suoi, le dici, però quando bisogna, un marchio deve avere lunga vita, deve anche pensare a cosa farà da grande il marchio stesso. Allora, penso che Bottega Veneta sia un brand impressionante, ancora meraviglioso, eccetera, ci sono dei momenti nei brand di inflection point, voglio dire, non è che puoi dire cresco il 40% ogni anno per i prossimi 30 anni, ci sono dei momenti in cui, come diceva Remo, ti fermi, ti guardi dentro, ti metti a posto, riparti, penso che Bottega sia uno di questi momenti e poi è chiaro che quando ci sono dei cambiamenti di CEO importanti all'interno di certe aziende questo può pesare, ma non perché quello che è venuto dopo era peggiore di me, era che sicuramente il modo di lavorare che mi ho portato io era importato in un certo modo e non sono tantissimo in grado di cambiarlo velocemente, cioè oggi non è che puoi pensare faccio la strategia e vado in vacanza, no, ogni giorno si metti lì, controlli, guardi, spingi, ogni borsa che non vendi è persa, non è che la prendi l'anno dopo, quindi devi ragionare in questo modo, a me sinceramente di fare pochi numeri quest'anno perché il prossimo anno avrò dei problemi di budget o di non mi frega niente, oggi tiro al massimo e il prossimo anno tirerò ancora di più. Senta, se uno pensa a Stella McCartney gli viene in mente qualcosa di preciso, se uno pensa a Bottega Veneta gli viene in mente qualcosa di preciso, magari, ecco, troppo standardizzato il tutto rispetto se uno deve pensare tra un anno a Gucci cosa vuole che pensi? Che quando entri nel negozio sia una sorta di candy shop, negozio di caramelle dove la gente viene, compra, si diverte, esce col sorriso pieno di dolci. Va bene, avvertiremo i diabetici comunque di questo. Senta, e dove si vede nel 2020? 2020 avrò quanti anni avrò? Qua è il 60? 2020 non lo so, non faccio piani a lungo. Quanti avanti avrà nel 2020? 60 anni. 60 anni? Non lo so, non ho più palli di idea, non ho mai pensato così a lungo per me, ragiono molto su quelle cose che mi piacciono, l'importante è che mi diverta, il problema è che da Bottega sono voluto uscire perché mi stavo annoiando, stavo consolidando sul business, facciamo sempre le stesse cose. Sempre a casa e a Bottega mi rendo conto. La ringrazio, grazie. 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 Grazie.